Cardano Cecilia, basta gamma di macchine per cucire delle migliori marche, a partire da 99 euro. Singer Patchwork 7285Q è la macchina per cucire che dà una marcia in più alle idee creative. Le caratteristiche innovative la rendono una macchina per cucire perfetta per i nuovi kilters, per coloro che hanno appena iniziato a cucire e per tutti quelli che hanno una certa esperienza ma vogliono aumentare la loro capacità e la loro creatività. Singer 7285Q con i suoi 99 punti a disposizione combina i programmi di cucitura fino ad ottenere oltre 200 funzioni. Punti elastici, punti di rifinitura della taglia cuci, ricami a punto pieno, orlo invisibile, cucitura a due aghi, vari tipi di asole, applicazioni di elastici, orli a giorno, finto punto a mano per kit, decorazioni patchwork. Singer 7285Q è la tua marcia in più. Acquista con fiducia da Cardano Cecilia, assistenza online e telefonica. 5 anni di garanzia, insegnamenti e scuola gratuita presso i nostri centri vendita. Vieni da Cardano Cecilia, in via Novara 111 a Galliate, con la certezza di trovare la passione per il cucito. Dal 1969, Cecilia Cardano non è solo un nome, ma una garanzia per sempre.